È dal nostro territorio che prendiamo ispirazione ogni giorno per ricordarci chi siamo e quali sono i nostri obiettivi, prendere questo presente più sostenibile. Per questo ci impegniamo a produrre energia da fonti rinnovabili con oltre 30 milioni di kilowattora di energia elettrica e oltre 18 milioni di kilowattora di energia termica, per essere all'altezza dei nostri oltre 700 mila clienti. Sappiamo che per arrivare in alto occorre affidarsi a persone capaci, come i nostri 786 dipendenti. Con loro viviamo accanto alle nostre comunità per costruire qualcosa di duraturo. Tutto questo è racchiuso nel nostro territorio e noi di Estra siamo qui per costruire un futuro che ci assomiglie. Il nostro territorio parla di noi perché da anni noi parliamo al nostro territorio. Estra, per un presente sostenibile.